Quello che temono è il nulla, ossia che le produzioni arrivate a fine vita non vengano sostituite da altre e che a Lanciano, nonostante le tante riunioni fatte, all'orizzonte della Pierburg non compaiono né un vero e proprio piano industriale né alcun trasferimento di produzione. Ma quello che temono soprattutto è che i 140 lavoratori della Pierburg diventino altri numeri senza volto, persone senza arte né parte nella crisi industriale dell'automotive. La preoccupazione investe tutti, dipendenti, famiglie, amministratori e sindacati che individuano nel massiccio ricorso alla cassa integrazione un segnale dolorosamente eloquente. La Pierburg di Lanciano sta purtroppo subendo una crisi di mercato come tante aziende del settore della ricambistica. La situazione non è ancora chiara perché l'azienda non ci ha fornito ancora un piano industriale per i prossimi anni e noi da diversi mesi la stiamo portando al tavolo appunto per snocciolare la situazione. Purtroppo già dal mese di aprile che ci vediamo e l'azienda non arriva con delle notizie certe. La paura è forte perché l'impatto della cassa integrazione in questo momento si fa sentire, diciamo che ci sono almeno uno o due giorni a settimana, tutte le settimane. Ricordiamo che questa è una fabbrica storica della Val di Sangro, è un'azienda storica a livello internazionale perché accompagna la vita dell'autovettura in sé per sé dalla nascita e occupa circa 140 dipendenti solo nello stabilimento. Per alcuni prodotti l'azienda è arrivata alla fine vita di questi prodotti, è necessario che l'azienda porti nuovi prodotti, porti nuove linee nello stabilimento di Lanciano così come aveva promesso nell'accordo al Mise di qualche tempo fa. C'è già un accordo di qualche anno fa nel quale l'azienda prendeva degli impegni e ad oggi purtroppo parte di quegli impegni sono stati disattesi. Contiamo di portare a casa un risultato anche perché nelle ultime settimane abbiamo messo in campo un'azione di pressing nei confronti dell'azienda sia con comunicati che con alcune ore di sciopero quindi ci aspettiamo che oggi l'azienda venga con delle notizie più importanti altrimenti dovremo intensificare la nostra azione. Già da tempo si susseguono le riunioni sulla situazione occupazionale nello stabilimento Pierburg della Val di Sangro ma quella di oggi, prevista per le ore 15, si profila particolarmente importante per la presenza annunciata della CEO della Pierburg Motoservice, Tobias Kasperlich.